Per aiutare davvero e in fretta gli italiani ho chiesto al Presidente del Consiglio e oggi anche al Presidente della Repubblica tre interventi immediati. Uno, inviare subito nelle zone di guerra almeno 100 fra medici specializzati e infermieri. A Bergamo e a Brescia, si muore in casa, non è possibile, bisogna intervenire oggi. Sospendere il pagamento delle tasse è incredibile che domani migliaia o milioni di italiani debbano versare tasse su soldi che non hanno incassato. Tre, non usare il virus per approvare in silenzio, svuota carceri, indulti. Chiediamo agli italiani di stare a casa e di chiudere tutto, non è possibile aprire le celle a 5.000 fra spacciatori, ladri e rapinatori. Queste sono le proposte per migliorare un decreto, se ci ascoltano la Lega c'è e ci sarà. Grazie a tutti.